Buongiorno a tutti, io volevo ringraziare SMAU per questa collaborazione che mi offre di proporre. Volevo parlare del progetto nazionale di Confindustria Giovani, Mi Imprendo Italia. Mi Imprendo Italia è una competizione dove gli imprenditori gareggiano assieme agli studenti universitari per portare avanti un'idea progettuale dell'imprenditore. Mi Imprendo Italia ha già avuto un'edizione l'anno scorso, sono 18 università coinvolte su tutto lo stivale, da Padova, Verona, Roma, Milano fino a Palermo, 450 studenti coinvolti e noi imprenditori abbiamo scoperto che gli studenti universitari sono perfettamente in grado, nonostante ancora siano nel corso degli studi, di promuovere e di portare avanti le nostre idee. Sono un bacino ancora non sfruttato. Questo progetto aiuta a tirar fuori tutto il valore che questi hanno. Nella seconda edizione vogliamo avere numeri molto più importanti e quindi grazie veramente a SMAU che mette il suo network di città in città per parlare e promuovere questo progetto che il prossimo anno sarà sicuramente ancora più importante e che noi portiamo avanti con grande speranza e determinazione. Grazie